Meloni è assente al vertice del processo di Berlino, rappresentata dal vice-premier. Questa lunedì 16 ottobre a Tirana, i leader dell'Unione Europea si sono riuniti nell'ambito del processo di Berlino. All'incontro mancherà il primo ministro italiano Giorgia Meloni, che sarà rappresentata dal vice-premier Antonio Tajani. Ricordiamo che il presidente francese Emmanuel Macron ha rinviato la partecipazione al vertice per arrivare a Tirana oggi, a causa degli attacchi terroristici in Francia, dove un insegnante è stato ucciso nel nord del paese. Il processo di Berlino è un'iniziativa finalizzata a promuovere la cooperazione regionale nei Balcani occidentali e a sostenere l'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali, nell'Unione Europea. È stato lanciato e presentato il 28 agosto 2014 dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Gli obiettivi del processo sono stati descritti nella dichiarazione finale della presidenza tedesca. Fare progressi concreti nel processo di riforma, risolvere questioni bilaterali irrisolte e affrontare questioni interne e raggiungere la riconciliazione all'interno e tra le società nella regione e rafforzare la cooperazione economica, regionale e gettare le basi per una crescita sostenibile, ha dichiarato Merkel all'epoca. Il processo di Berlino è supportato dalla Commissione europea, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dagli stati membri coinvolti nel processo, Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Regno Unito, insieme ai paesi dei Balcani occidentali. È un contributo supplementare al processo istituzionale di integrazione nell'UE degli stati, basato sull'adesione all'acquis comunitario.